A tradirlo è stato il vizio del gioco e delle scommesse che gli è costato niente meno che il carcere. Un ventenne nigeriano, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato sabato pomeriggio dai carabinieri della compagnia di Treviso. Su di lui gravava il divieto di ritorno nel capoluogo della marca, divieto che ha violato per raggiungere una sala slot nel quartiere di San Giuseppe. Il giovane era stato arrestato l'11 ottobre scorso in via Roma, dove era stato trovato in possesso di 13 dosi di marijuana per un totale di 22 grammi e 100 euro in contanti, provento dello spaccio. Scarcerato e sottoposto alla libertà controllata, ha fatto rientro nel territorio di Treviso e tanto è bastato per fare mettere al giudice un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, col risultato che attenderà in cella il processo a suo carico.